E' dedicata a Nicola Fumo, il grande artista nativo di Baronissi, che fu fra i principali interpreti del barocco napoletano, l'opera inaugurata dal sindaco della cittadina della Valle dell'Ilno, Gianfranco Valiante, realizzata dal compianto medico scultore Pierfrancesco Mastro Roberti. La scultura, alta due metri, poggiata su un imponente basamento, è stata collocata in un larghetto che verrà dedicato a Nicola Fumo, lo scultore di Baronissi nato nel 1647 e di cui il prossimo anno, il 2 luglio, ricorrerà il tricentenario della morte. Fumo, oltre che a Napoli, fu apprezzato anche in Spagna, dove nel 1689 fu nominato scultore del re. Nella sua ultima scultura Pierfrancesco Mastro Roberti, che è stato ricordato anche dalla figlia presente fra gli altri alla cerimonia, ha saputo infondere all'opera un'anima plasmata nel bronzo, rappresentando simbolicamente Fumo con in mano uno scalpello mentre ricava da un blocco di legno la dolce figura della Madonna che abbraccia il bambino Gesù. La Vergine Maria era una delle figure più amate da Fumo. Le sue opere sono principalmente tra Napoli e Spagna, magistralmente interpretata da Mastro Roberti. La Vergine Maria era una delle figure più amate da Fumo. La Vergine Maria era una delle figure più amate da Fumo.